Il deputato Ligre di Forza Italia, Bagnasco, questa mattina ha visitato Ventimiglia, ha incontrato il sindaco Flavio Di Muro e la sua amministrazione. Ha colto l'occasione anche per visitare la stazione ferroviaria Le Gianchette e le zone più frequentate dai migranti e il PAD, il punto di accoglienza diffusa, collocato vicino alla Caritas in Temeglia. È chiaro che questa visita, che devo dire era programmata da qualche tempo, quindi non è dovuta agli ultimi fatti particolarmente rilevanti che ci sono stati soprattutto a Lampedusa, una visita che avevo programmato con il sindaco, ritenendo la situazione migratoria ormai ad un limite di non ritorno e che quindi ognuno di noi, per quanto è possibile, evidentemente deve dare il suo contributo. Come parlamentare Ligure, in particolare parlamentare Ligure, ovviamente mi sembrava doveroso, necessario, venire a Ventimiglia per parlare col sindaco, con l'amministrazione, con i miei colleghi anche di partito, di questa realtà, che è una realtà particolarmente delicata ed importante, che deve essere evidentemente conosciuta, prima di tutto, in maniera approfondita. Perché per poter prendere delle decisioni io credo che la cosa più importante sia conoscere i problemi e non affrontarli in maniera superficiale. Il sindaco evidentemente era la persona più adatta per avere conoscenza di questi problemi, me ne ha parlato in maniera, ce ne ha parlato in maniera molto diffusa, con grande attenzione evidentemente, e quindi credo di poter tornare a Roma nei prossimi giorni con delle idee ancora più chiare rispetto a quelle che già mi ero fatto in precedenza, e non solamente per quanto riguarda i CPR. Per quanto riguarda i CPR è chiaro che la nostra posizione, una posizione chiarissima, i CPR sono necessari. Io credo che anche il sindaco lo abbia detto. La localizzazione è chiaro che dipende dal Ministero dell'Interno, dal Ministero poi della Difesa, che avrà il compito di metterli in piedi, questi CPR, e si cercherà la situazione più adatta qui nella zona, nelle vicinanze del, come ha detto il Ministro Piantedosi, nelle vicinanze del confine. Questo penso che sia una scelta ormai fatta, e che deve essere però portata a termine e realizzata nel più breve tempo possibile. Voglio ricordare che i CPR non sono per tutti gli immigrati, ma sono per gli immigrati irregolari, coloro i quali non hanno alcuna intenzione di regolarizzarsi o di tentare di regolarizzarsi, e quindi è chiaro che per loro ci vuole una situazione diversa rispetto a quell'accoglienza che anche Ventimiglia, devo dire, in particolare, ha portato avanti in questi anni, perché insieme ai colleghi, io credo che a Ventimiglia si sia fatto molto per quanto riguarda l'accoglienza. Quando si parla di un'Italia matrigna nei confronti degli immigrati, io credo che prima bisognerebbe conoscere un attimino quello che si sta facendo, quello che si è fatto in tante realtà, ad esempio, come si è fatto a Ventimiglia per accoglierli nel miglior modo, soprattutto evidentemente i più deboli, i bambini, le donne, coloro i quali ne hanno maggiore necessità. L'ha fatto salvo che la Francia continua a chiudere le frontiere, per meglio dire i confini. A Ventimiglia comunque i migranti ci sono, basta andare alle gianchette, e questi non vengono fondamente accolti se non dalle associazioni. Esatto, questo è il problema, infatti quello a cui si vuole arrivare. È chiaro che intanto sgombriamo il problema dell'immigrazione è un problema delicatissimo, importantissimo, che totalmente, credo che non so se potrà mai essere risolto. Bisogna parlare molto chiaro, la gente credo che abbia l'intelligenza per capire quanto si è delicato. Però le cose si possono fare in maniera migliore. E io dico che mentre i bambini, le donne, coloro i quali evidentemente hanno la necessità di essere accolti, lo si sta facendo anche a Ventimiglia in maniera importante, coloro i quali non hanno queste caratteristiche, sono immigrati totalmente irregolari, bisogna trovare delle soluzioni. E l'unica soluzione possibile in questo momento è il CPR, che è chiaramente un qualcosa che assomiglia evidentemente a qualcosa di molto più restrittivo, ma in questo caso è assolutamente necessario. Però riguarda solamente una parte di questi immigrati, ricordiamocelo bene, non tutti. Molti non ci andranno mai, non ci sono mai andati e mai ci andranno. Alcuni invece dovranno andare per forza in queste realtà che, e credo che sia importante, verranno gestiti per la prima volta dal Ministero della Difesa e dall'Esercito. Quindi c'è un passaggio di qualità rispetto a prima. Non abbiamo mai fatto in Italia questo tipo di iniziative. La preoccupazione dei ventimigliesi è che un CPR nella zona Ventimiglia o comunque zona limitrofe sia quella che poi arrivino anche da altre zone e vengono portati in questo CPR e che quindi con possibili evasioni si creino ulteriori problemi. Ma io questo è un problema che evidentemente esiste perché le evasioni sono uscite da Alcatraz, la gente, quindi pensare, tanto per capirci, credo che pensare che le evasioni non ce ne debbano essere mai, però penso che questi nuovi CPR siano una cosa molto più seria rispetto a quello che ci sono stati fino ad oggi, anche dal punto di vista evidentemente della loro sicurezza. L'Esercito quando si prenderà questo tipo di responsabilità, credo che se la prenderà al 100% e quindi i risultati credo che ci saranno sicuramente. Io non ho detto Ventimiglia perché non conosco neanche bene la realtà. Ho detto, abbiamo detto la zona più vicina possibile al confine. Questo per evitare che qui a Ventimiglia ci siano decine e decine di migranti irregolari che vivono in condizioni penose, ma che sono anche fonte, parliamoci molto chiaro, condizioni penose per loro e forte pericolo per i ventimigliesi. Quindi due condizioni che devono essere in qualche modo sicuramente superate. Io credo che il governo deve prendere provvedimenti speciali, decreti speciali per i comuni di frontiera, tra cui evidentemente c'è Ventimiglia. Sentivo dal sindaco, per esempio, che i vigili urbani sono 25 o qualcosa del genere, comunque intorno alla ventina di unità, assolutamente non è possibile che un comune come Ventimiglia, che ha problematiche diverse rispetto a tutti gli altri comuni con lo stesso numero di abitanti, debba confrontarsi con le stesse regole. Le regole quali sono? Di tipo economico, evidentemente, quindi ci vuole un aiuto, e anche di deroghe normative per poterli assumere. Quindi, di deroghe normative per le assunzioni e aiuti economici per poter pagare, evidentemente, questi assunti.